Mettere a disposizione di tutti gli operatori delle case di riposo e delle residenze sanitarie per disabili della provincia di Sondrio dispositivi di protezione individuale ed effettuare in accordo con ATS della Montagna tamponi a tappeto sul personale sugli ospiti per contenere la diffusione del coronavirus alla luce di alcuni casi di contagio registrati nelle strutture sociosanitarie assistenziali della nostra provincia ad esempio nella RSA di Chiavenna dove il covid-19 costato la vita a quattro anziani ospiti e a fronte della giustificata preoccupazione da parte dei lavoratori i segretari generali della CISL di Sondrio, Davide Fumagalli, della CGL di Sondrio, Guglielmo Zamboni e della Will di Sondrio, Vittorio Giumelli attraverso un documento inviato alla prefettura chiedono al prefetto Salvatore Rosario Pasquariello di intervenire presso le sedi opportune con il coinvolgimento del territorio a tutela di un settore decisamente vulnerabile con persone più fragili spesso in precarie condizioni di salute che merita la massima attenzione. In particolare i sindacati credono che l'attuale difficoltà nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale come mascherine, camici, occhiali e l'impossibilità di sottoporre ai tamponi tutto il personale sociosanitario per avere una fotografia aggiornata della situazione nell'RSA e nell'RSD debbano essere superate tempestivamente trovando delle risposte in grado di garantire sicurezza a operatori e ospiti nel rispetto delle indicazioni di prevenzione e controllo dell'infezione disposte dall'Istituto Superiore di Sanità. Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre al prefetto che si faccia portavoce di queste grave condizioni presso le autorità competenti anche per definire un monitoraggio costante della situazione in ogni struttura per intervenire tempestivamente in caso di emergenza adoperandosi affinché i lavoratori che ne facciano richiesta possano inoltre trovare alloggio nelle strutture stesse e in prossimità del luogo di lavoro senza quindi tornare a casa tutelando i propri familiari. Grazie. 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 Grazie.